Una nuova operazione finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel comune di Trani è stata compiuta nella nottata di ieri dai carabinieri della locale stazione. Dopo una serie di servizi di appostamento è stato notato dai militari un eccessivo afflusso di persone presso l'abitazione di un noto pregiudicato del luogo di origini albanesi. Sulla base di questi elementi e del fatto che l'Andirivieni si stava facendo particolarmente intenso, soprattutto nelle ore notturne, gli operanti hanno deciso di procedere a un controllo contestualmente al sopraggiungere di qualche cliente. Appena entrati in casa i carabinieri hanno subito intuito che qualcosa non andava poiché nell'aria si avvertiva un forte odore di marihuana. Approfondita la verifica dell'appartamento, mettendo in atto una curata perquisizione, i militari hanno potuto constatare di aver scoperto un vero e proprio bazar della droga. Infatti sul tavolo del salone era in quel momento in atto il confezionamento dello stupefacente vi era materiale vario, nonché erano presenti numerose dosi di cocaina e marihuana. Occultati dentro un mobiletto, rivenuto ulteriori dosi di sostanza stupefacente per un totale di 72 involucri contenenti cocaina e 12 di marihuana. Il giovane nelle tasche di jeans aveva altresì una cospicua somma di denaro, circa 450 euro, sicuramente provento delle attività illecite. Alla luce di quanto constatato, il 26enne è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Trani, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.